Tra poco, sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Seconda vittima nelle marche del coronavirus è un sessantenne già malato. Salgono a 61 i casi positivi in tutta la regione. La situazione si aggrava. Il governatore firma una nuova ordinanza. Scuole chiuse e tutte le manifestazioni sospese fino all'8 di marzo. Tra i contagiati ci sono anche molti operatori sanitari. I medici di famiglia dello SNAMI minacciano di chiudere le sale d'aspetto se non riceveranno i kit per le protezioni personali. Va un po' meglio dai pediatri. La paura del contagio sta cambiando le nostre abitudini di vita e i nostri modi di relazionarci con gli altri. Quali sono i risvolti psicologici di questa emergenza? L'abbiamo chiesto all'esperta. Lotta allo spaccio. Quattro arresti dei carabinieri di Fano. Sequestrati oltre 10.000 euro in contanti. E droga. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. L'informazione in primo piano con il coronavirus è la seconda vittima che si registra nella nostra regione. Si tratta di un paziente di 60 anni che era già malato e ricoverato all'ospedale di Pesero. Esprimiamo ai familiari delle vittime la nostra vicinanza, ha detto il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli. Salgono dunque a 61 i casi complessivi, i casi positivi in tutta la regione. E' Tullio Marchesi, 61 anni di Pesero, deceduto durante la notte scorsa mentre era ricoverato al San Salvatore di Pesero il secondo paziente condagiato dal coronavirus. Lascia la moglie e una figlia. Ma sale inesorabilmente e anche in maniera esponenziale il numero dei positivi. Per questo in serata il governatore Luca Ceriscioli ha deciso di estendere per contenere la diffusione del virus la sospensione delle attività digedattiche e le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura anche al resto della regione Marche. Nella nottata è terminato l'esame dei 54 tamponi effettuati ieri dalla S.O.D. virologia di Torrette, rivelandone altri 26 positivi. Salgono quindi a 61 in totale i casi in regione, di cui 55 solo nella provincia di Pesero. 5 in quella di Ancona e il primo a Macerata, quest'ultimo proveniente dalle zone a rischio. La politica oltre a prendere posizione sull'argomento incomincia anche ad essere interessata personalmente. Questa mattina una consigliera regionale ha dovuto lasciare l'assise, aveva manifestato sintomi febbrili e un dolore intercostale nella zona dei polmoni. Per precauzione ha preferito tornare a casa e seguire le indicazioni del numero 1500. Anche la seduta del Consiglio Comunale di Fano, che avrebbe dovuto tenersi domani e anche quella del 12, è stata rinviata a data da destinarsi. Il sindaco di Montegranaro, poi Ediana Mancini, è in isolamento con tutti i familiari. La consigliera regionale Jessica Marcozzi, di Forza Italia, già stamattina, vista la notizia del secondo decesso di Ramata Dalgores, e il silenzio del Governo centrale auspicava una presa di posizione del Governo sull'estensione delle misure anche alle altre province. Ma alla luce dei dati forniti nella seguta odierna del Consiglio regionale, oltre all'estensione delle misure alle altre province, si aspettavano anche misure economiche per sostenere le imprese in questa delicata fase. Ma quello che è ancora peggio, noi oggi ci aspettavamo che, oltre a conoscere le dimensioni di questa vicenda che sta preoccupando tutti, ci fosse anche qualche proposta economica a sostegno dell'economia, in modo particolare del commercio, del turismo, che in questo momento ci arrivano messaggi continui da imprenditori che sono veramente molto preoccupati per la perdita dei clienti, per la perdita dei fatturati e per qualche misura che tutti quanti onestamente ci aspettavamo, al di là di conoscere i numeri. Credo che dopo una settimana almeno sospendere i pagamenti, fare in modo che ci fosse un aiuto concreto, un sostegno economico alle imprese, qualcosa oggi doveva esserci sinceramente. Inoltre, la cosa più assurda che abbiamo scoperto questa mattina è che l'ufficio per il terremoto ha sospeso molti appuntamenti, visto che è in ritardo su molte consegne ed è oggetto già di critiche per i ritardi sul terremoto. Oggi, in disposizione del coronavirus, hanno allentato ulteriormente gli appuntamenti e gli incontri, le riunioni sull'intervento per il terremoto. Questo fa ulteriormente dispiacere perché così questa regione davvero viene martoriata e non si rialza più. Questo dunque è l'aggiornamento dell'ultimo minuto. Invece adesso andiamo a vedere la mappa, la cartina dei contagi. Abbiamo detto che sono 61 le persone positive al test, al tampone, distribuite in 15 comuni. Andiamo a vederlo con l'aiuto di questa cartina che la nostra grafica ha realizzato. Sono, dicevamo, 15 comuni dove a Pesaro e Fano ci sono anche purtroppo le due persone decedute, poi gli altri. A Pesaro vedete come è aumentato notevolmente. Sembrava che fosse quasi fuori da questo contagio Pesaro. Invece è balzato subito al primo posto con 26 contagi. Poi Fano con 10, Urbino 4, Cartoceto 2, Colli al Metauro 1, Vallefoglia 5, Tavuglia 1 contagio. Sasso Corvaro 1, Monte Calvo in Foglia 2, mentre Gabicce registra 2 positivi. Andiamo in provincia di Ancona e Macerata. Ancona 5 persone contagiate positive, Macerata 1, Matelica 1 e Osimo 1. Questa dunque la mappa dei contagi. Ma adesso parliamo del fronte sanitario, perché sono 65 le persone che risultano in quarantena tra operatori sanitari, infermieri, medici. La situazione anche da questo punto di vista è piuttosto complicata. In questa lotta quotidiana al coronavirus e alla sua diffusione tra la popolazione, i medici e gli operatori sanitari sono la categoria professionale più esposta al pericolo contagio. Tra questi poi il medico di famiglia è ancora più a rischio. Non a caso in provincia di Pesaro ci sono 7 medici in quarantena volontaria. Ed ora le associazioni di categoria, per non appesantire ultimamente la situazione, chiedono con forza immediate tutele. Dobbiamo cominciare ad alzare un pochettino la voce, perché siamo veramente stati abbandonati. Non abbiamo nessun presidio per difenderci. Gli unici cose che abbiamo a disposizione sono dei kit che sono nelle sedi del 118, quindi Fossombrone e anche Calcinelli. Mi dicono che dobbiamo dire per che cosa usiamo questi kit, quindi dire perché, chi è, chi non è. Quindi noi non abbiamo la libertà di fare il nostro mestiere protetti, né di proteggere i nostri assistiti, i nostri cittadini. Quindi io dico qui in maniera forte, saremo costretti, anzi siamo costretti, a chiudere gli studi attivamente, chiaramente. Noi saremo dentro e quindi cercheremo di non dare alla popolazione meno disturbo possibile, però onestamente a far entrare 15-20 persone negli studi. Non abbiamo segretarie, non abbiamo infermiere, quindi non c'è qualcuno che ci fa il triage fuori, quindi non abbiamo la possibilità di fare il triage telefonico. Al di là di quello i telefoni, come voi potete capire, sono impazziti. Quindi veramente la nostra decisione, se non ci varrà qualcuno in aiuto con dei presidi per difenderci, noi e gli altri, siamo costretti a chiudere gli studi, ripeto, attivamente. Quindi questo è l'aiuto che chiedo alle autorità, a chi di dovere, che già sono state fatte privatamente, attraverso i canali miei, come Presidente regionale, ho già fatto queste richieste ai vertici della Regione, ma a tutt'oggi io non ho avuto nessuna risposta. Allora qui ci deve mettere d'accordo. Se noi dobbiamo fare il nostro mestiere, come ha detto io nella riunione in Regione, io sono un medico, è vero che l'Istituto Superiore di Sanità ha i vertici, ha le menti, ma sul territorio sono io, lo scienziato, non loro. Quindi io so che molta gente ha bisogno di essere andata a vedere a casa. E quindi non posso dire non vengo, altrimenti queste persone cominciano a dire il dottor non viene a casa, mi viene a visitare. Allora come facciamo? Allora signori, ripeto, per evitare tutto questo, non voglio arrivare agli estremi di fare cose, dotateci di quello che possiamo, una mascherina, un kit, non siamo molti, poi l'area rossa è nella provincia di Pesona, l'entroterra, ripeto, non abbiamo niente. Negli ambulatori invece dei pediatri di libera scelta, le cose vanno un po' meglio, appuntamenti concordate, e sale d'aspetto con pochi bambini. Dottore, allora i pazienti come hanno preso un po' queste nuove disposizioni, come si stanno comportando? Dunque, i pazienti si stanno comportando veramente bene. Gli accessi impropri, cioè chi si presenta così liberamente, in maniera autonoma, senza il rispetto delle norme generali, sono veramente molto pochi. E' stato un po' di problema, proprio all'inizio, 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 ma poi la cosa è stata immediatamente, si è superata, e tutti, un po' anche per l'abitudine, perché noi di solito lavoriamo dopo un contatto telefonico, quindi è una cosa abbastanza consueta per noi, per cui diciamo che è raro che qualcuno si presenti in studio se prima non si è ben presentato al telefono, ha presentato il suo caso. Noi ovviamente cerchiamo di dividere molto bene, sia per età, ma anche per patologie, per così dire, quindi i bambini piccoli, li mettiamo in orari abbastanza separati dagli altri, quindi cerchiamo di lavorare in sicurezza con tutti. Usiamo i nostri presidi, un po' per proteggerci noi, e un po' anche per proteggere i nostri pazienti. Le mamme cosa dicono? Esprimono preoccupazione? Quali sono le domande che più vi rivolgono in questo periodo? Beh, le mamme sono preoccupate, fanno delle domande di ordine generale, sia per la sicurezza dei loro bambini, sia per la situazione che si è venuta a creare, il comportamento da tenere in generale, nella vita comune, che ovviamente ha subito delle variazioni notevoli, c'è poco da fare. Stiamo lavorando e ci stiamo comportando tutti in maniera molto diversa. Il fatto stesso è che dobbiamo stare lontani un metro, come stiamo noi, e questo già comporta delle difficoltà per tutti. Anche la struttura di virologia degli ospedali riuniti di Ancona ha isolato il coronavirus. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, durante le comunicazioni sull'emergenza epidemiologica nel corso della seduta del Consiglio regionale che si è svolto oggi. Ceriscioli ha parlato di un fatto importante che denota la capacità della struttura ospedaliero universitaria e segna anche la qualità di quello che si sta facendo. Lo avete sentito nell'intervista che vi abbiamo appena trasmesso il pediatra che diceva che dobbiamo stare a un metro di distanza perché così prevede l'ordinanza, così prevede il decreto del Presidente del Consiglio. E allora siamo andati a fare un giro in città per vedere un po' come stanno le cose. Le attività commerciali della provincia di Pesaro e Urbino a pochi giorni dell'entrata in vigore delle nuove misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus emanate dal Governo si trovano a fare i conti con una nuova limitazione, ossia quella di mantenere la distanza di sicurezza all'interno dei locali. Il decreto attivo fino a domenica 8 marzo dispone lo svolgimento delle attività di ristorazione bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali i frequentatori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le attività commerciali possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità idonee e evitare assemblamenti di persone tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche degli esercizi commerciali aperti al pubblico e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza consentita. Inoltre, sempre nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani. Il nuovo limite, non più affidato al buon senso individuale ma predisposto nero su bianco nel nuovo decreto ha però messo ulteriormente in difficoltà gli esercenti chiamati a servire i loro clienti solo al tavolo mantenendo le dovute precauzioni. Gli esercenti si mostrano preoccupati a fronte delle nuove predisposizioni emanate dal decreto limitazioni che unite alla forte diminuzione di persone che escono di casa per paura di possibile contagio da Covid-19 rischiano di mettere in ginocchio le attività commerciali della città. Credo che non vada molto molto bene bisogna cercare di fare quello che ci chiedono anche se non sempre siamo d'accordo. I clienti non fanno nessun commento anche loro sono abbastanza bravi, si adeguano noi siamo il pubblico potremmo anche noi prendere con tutti quanti questo virus però se è vero che è grave questa cosa che sta succedendo i ragazzi come tutti gli altri devono stare a casa. La risposta dei clienti è discordante se alcuni assidui frequentatori sembrano avere preso confidenza con le nuove regole che consigliano la distanza per evitare che le goccioline di saliva potenzialmente infette si disperdano nell'area fino ad arrivare a contagiare l'interlocutore altri preferiscono continuare a disonorare le norme di buonsenso. Ma quali sono i risvolti psicologici di questa nuova condizione sociale? Cosa alimenta le fobie le reazioni di panico collettive alle quali abbiamo assistito anche e soprattutto nei primi giorni del contagio? L'abbiamo chiesto all'esperta. Allora, che cosa succede nella nostra psiche quando ci troviamo di fronte ad eventi come quello che stiamo vivendo appunto la diffusione di un virus incontrollato? Allora, quello che noi stiamo vivendo sicuramente è un momento di grossa difficoltà stiamo vedendo allarmismo e panico questo da dove nasce? Dal fatto che il virus è qualcosa che noi comuni mortali diciamo non possiamo vedere perché è molto piccolo questo fa sì che sfugga al nostro controllo alla nostra vista e da lì ci sentiamo impauriti e impotenti tutto questo, questa paura e questa impotenza poi genera ansia e panico che cosa ci faccio con queste sensazioni con queste emozioni? tre sono le opzioni la prima, agisco esempio, vado a fare la spesa compro la mucchina compro la mascherina perché se faccio ho la percezione di poter tenere sotto controllo questo virus e quindi abbasso i livelli di panico e di ansia seconda cosa posso far finta che non esiste no? che non esista quindi la svaluto no? anche un po' in maniera imprudenziale terza cosa quello che ci posso fare è mi blocco se percepisco dei livelli di panico e di ansia molto molto alti una reazione naturale è quella di bloccarsi mi chiudo in casa altra cosa che facciamo lo facciamo tutti l'ho fatto anch'io è quella di parlare parliamo parliamo di sto conoravirus no? e quindi perché ci serve a sentire un po' il mezzo comune ma il comune mezzo gaudio no? il problema che cos'è? è che in questo sovraccarico anche ossessivo alla ricerca ossessiva di informazioni aumenta il livello di rabbia e di panico no? quindi la rabbia qual è? avrebbero dovuto fare questo se avessero fatto questa cosa a quest'ora non saremmo qui no? quindi è tutto un modo anche la rabbia e l'odio è un modo per dividere le parti no? noi siamo i buoni e gli altri sono i cattivi l'invito è quello di uno fermiamoci sembrerà banale ma respiriamo se io respiro entra più ossigeno sembrerà guarda banalissimo ma entra più ossigeno se entra più ossigeno nel corpo entra anche nel cervello e quindi posso ragionare e ascoltare le informazioni ufficiali no? le indicazioni ufficiali ci vengono date perché noi possiamo fare due cose anzi tre cose importanti uno proteggerci in una maniera adeguata sana proteggere gli altri ok? e tre se tutti quanti le rispettiamo collaboriamo perché in questo modo possiamo chiudere questa esperienza del del coronavirus il prima possibile anche questo sembrerà banale ma questa esperienza finirà per cui alla luce di questo l'invito è quello di continuare la propria vita soffrono soffrono gli agriturismi della provincia di Peso Urbino dichiarata zona gialla per l'emergenza coronavirus con un calo del 50% dei clienti ma si resiste invece con la vendita diretta ad evidenziarlo e col diretti Marche che parla delle disdette degli avventori anche se per ora resistono le prenotazioni per Pasqua e per il 25 aprile lo scorso fine settimana si è lavorato ma c'è ansia in vista della primavera e sugli sviluppi della situazione che si modificano di ora in ora vanno invece avanti i mercati di campagna amica la vendita diretta dei produttori della provincia di Peso Urbino che ha confermato tutti i suoi appuntamenti fino a sabato prossimo sabato 7 marzo e il consiglio regionale delle Marche ha approvato a maggioranza con l'unico voto della Lega Contrario la proposta di legge di incorporazione del comune di Monte Ciccardo nel comune di Pesaro che ha come relatori Andrea Biancani del PD e Jessica Marcozzi di Forza Italia da oggi dunque Pesaro ha 1641 cittadini residenti in più nel suo comune e il comune di Fano invece informa che alla fine di migliorare la fruizione dei servizi di anagrafe dal 10 marzo è possibile prenotare un appuntamento in modalità online collegandosi al sito istituzionale del comune di Fano oppure chiamando ad un numero di telefono dalle 9 alle 12 e dal lunedì al venerdì e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16 il numero è 887 737 adesso la cronaca con la lotta allo spaccio da parte dei carabinieri di Fano che hanno effettuato quattro arresti in due operazioni distinte sequestrati oltre 10.000 euro in contanti e la droga è stata denominata coffee break l'operazione dei carabinieri che ha portato a smantellare uno smercio di stupefacente che aveva come piazza dello spaccio due bar della zona e da cui appunto la denominazione dell'operazione che si è conclusa con l'arresto di quattro uomini e sequestrato un ingente quantitativo di droga e denaro fondamentale in questa come in altre operazioni la conoscenza approfondita che gli uomini delle stazioni hanno del territorio che battono palmo a palmo ogni giorno di fatto utilizzavano questi due bar come luoghi dove tra un caffè e un altro poter spacciare droga agli avventori con modalità potenzialmente idonee a tenere lontano degli occhi indiscreti a finire in manette due italiani un trentenne di Fossombrone e un quarantotenne di Fano un albanese di 33 anni e un kosovaro di 35 che sono stati arrestati dai carabinieri di Fano nel corso però di due distinte operazioni antidroga effettuate anche con l'aiuto del nucleo cinefili di Pesaro i primi due sono stati bloccati dai militari del nucleo operativo di Fano della stazione di Fossombrone in un bar lungo la Flaminia dopo uno spaccio il trentenne di Fossombrone è stato bloccato all'interno del locale con 10 grammi di cocaina di cui ha tentato di disfarsi gettandola in un cestino e con 605 euro provenienti dall'attività di spaccio mentre il 48enne è stato fermato con segni di polvere bianca ancora sulle narici e una banconota arrotolata e intrisa dello stupefacente con la quale probabilmente ne aveva assunto poco prima in casa di quest'ultimo sono stati rinvenuti oltre 60 grammi di marijuana un bilancino di precisione materiale per il confezionamento delle dosi la seconda operazione invece è avvenuta in un bar di calcinelli dove un 33enne albanese con precedenti è stato fermato dopo aver spacciato una dose di cocaina a due giovani addosso gli sono stati trovati 700 euro e un'altra dose di stupefacente la perquisizione del locale poi ha permesso ai carabinieri di trovare tra la cucina e i bagni nascosto sotto una finestra un calzino contenente 50 grammi di cocaina a casa dell'operaio è stata sequestrata una somma di oltre 7000 euro ritenuta probabilmente il provento dell'attività di spaccio infine il kosovaro è stato arrestato in un casolare di campagna nei pressi di Tavernelle di Serrungarina dove con l'aiuto del cane Wang i carabinieri hanno trovato in un capanno 20 grammi di cocaina e un bilancino di precisione oltre a 1190 euro il cane Wang che a distanza di poco più di una settimana si è reso responsabile di un altro rinvenimento importante ha fiutato e ci ha segnalato lo stupefacente tutti gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Villa Fastigi a disposizione dell'autorità giudiziaria tranne il 48enne fanese che è stato processato con rito direttissimo e condannato a 6 mesi con 1000 euro di multa il 30enne di Fossombrone è stato poi sottoposto anche all'obbligo di dimora l'abanese però resta in carcere e il kosovaro ha l'obbligo di firma quotidiana nella stazione dei carabinieri e sempre i carabinieri però questa volta quelli della compagnia di Urbino hanno denunciato un 23enne uno studente già con precedenti perché aveva rubato un portafogli ad una donna titolare di un'agenzia immobiliare le aveva rubato praticamente sottratto il portafogli che era custodito dentro una borsa all'interno della quale c'erano 1500 euro in contanti i carabinieri di Urbino hanno subito indirizzato i sospetti su un cliente un cliente di questa donna il quale approfittando di un momento di distrazione le ha sottratto il portafogli versando subito dopo sul proprio conto corrente bancario il denaro rubato il giovane è stato rintracciato la somma di denaro restituita alla titolare intervento dei vigili del fuoco invece la scorsa notte nel comune di terre roveresche in via Ferriano a Ripe di Ferriano per alcune rotoballe di fieno andate a fuoco salvate anche da morte certa 220 capre che si trovavano in una struttura adiacente che era minacciata dalle fiamme il rogo a cause accidentali come hanno appurato i carabinieri di Marotta i proprietari dell'azienda agricola hanno dato fuoco alle sterpaglie le cui ceneri per effetto del vento hanno ripreso vigore e quindi aggredito il fieno 4 ore di intervento 4 mezzi 2 da Pesaro e 2 da Fano 11 uomini sono stati necessari per domare le fiamme e mettere in sicurezza i capi di bestiame andata invece completamente distrutta l'auto del pastore allora prima di salutarci vi leggo questa breve notizia che è stata abbattuta adesso dall'agenzia ANSA che sono dichiarazioni del patron del gruppo TODS ovvero Diego della Valle che si è domandato in un momento come questo perché non si è pensato di chiudere le borse per un certo periodo onde bloccare quelli che sono poi stati degli sperperi di centinaia e migliaia di miliardi e con questa domanda noi ci fermiamo qui ci salutiamo ma vi facciamo vedere un video un video che ha scatenato tante polemiche da tutti i livelli è un video che è stato diffuso in Francia niente meno che in Francia da Canal Plus ed è un video che sbeffeggia gli italiani e uno dei prodotti tipici dell'Italia ovvero la pizza ribattezzata Corona ma guardate se siete deboli di stomaco cambiate canale ma ci rivediamo subito dopo perché dopo la pubblicità e le previsioni del tempo c'è una nuova puntata di sviluppo Marche grazie per averci seguito ci vediamo domani mattina alle 7 per la rassegna stampa arrivederci la nuova pizza italiana qui va fare le tour du mondo grazie a tutti